Impegno ostico per la Torrese che dopo aver agguantato il treno delle prime della classe deve ora dimostrare di non soffrire l'alta velocità. Al Castrum arriva infatti il Delfino Curi Pescara, compagine che finora ha sempre navigato nella parte sinistra della classifica e che vanta la miglior difesa del torneo in coabitazione col Giulianova. Prima azione degna di nota per i padroni di casa al quinto. Cross proveniente dal settore destro che, complice alla deviazione, finisce dalle parti di Mastrilli che, ben appostato sul secondo palo, conclude di sinistro senza inquadrare la porta. Reazione ospita all'ottavo con Tamburriello che ci prova dal limite. Palla alta. Dopo una fase in cui il Delfino Curi Pescara si fa preferire, al diciannovesimo si rivedono i locali, con un destro di Gentile che finisce sopra la trasversale. Un minuto dopo ancora pericolosa la Torrese con una girata volante di Selmanai che mette i brividi freddi e calore. Delfino ad un passo dal vantaggio al ventiduesimo, con un'azione insistita al termine della quale Rosini, a due passi dalla porta, non riesce a buttare la palla nel sacco a causa di un salvataggio provvidenziale di un difensore. Al venticinquesimo ingenuità di abate al momento del rinvio. L'arbitro assegna un calcio di punizione dal limite. Sul pallone si presenta Gobbo, la cui conclusione viene respinta dalla barriera. Al trentaseiesimo gli ospiti chiedono un calcio di rigore per un presunto fallo di mano commesso dal Diloreto. Con le immagini di Mario Giacchetta passiamo alla cronaca della ripresa. Al nono minuto, iniziativa solitaria di Gentile che viene atterrato al limite dell'area. Sul pallone va a Mastrilli, ma la sua battuta si infrange sulla barriera. L'azione prosegue e Antichi di testa conclude di poco sopra la traversa. Primo pericolo creato dal Delfino nella seconda frazione. Al diciannovesimo, con un contropiede che vede il suo epilogo con una sgroppata di Marzucco che crossa dal fondo. Girata di Rosini e Fera che sfiora il palo. Venticinquesimo, calcio di punizione dalla lunga distanza di Tamborriello. Palla ancora all'altro. Al ventinovesimo, pericolosa la Torrese. Destro improvviso di Gentile, ma calore e attento nella deviazione in calcio d'angolo. Le squadre cercano con più insistenza la rete del vantaggio e sono frequenti le ripartenze in contropiede dall'una e l'altra parte. Al trentaduesimo, Tini recupera palla sulla trequarti. Crossa al centro per la testa di Santi Rocco che non sfrutta dovere e una ghiotta opportunità. Al quarantesimo, calcio di punizione di Tini e colpo di testa sul secondo palo di Festa, ma anche in questo caso la sfera non termina all'interno dello specchio della porta. Poco da segnalare nei cinque minuti di recupero concessi da Diella di Vasto, che al triplice fischio finale sancisce uno 0-0 che permette ad entrambe le compagini di continuare a muoversi nella parte alta della classifica. Calore, un buon punto su un campo ostico e un'altra partita con nella porta inviolata. Sì, stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva, penso che questo si veda. Anche oggi abbiamo rischiato poco, comunque contro una squadra come la Torrese che esprime un gran calcio, in avanti sono pericolosissimi, hanno quattro attaccanti, due che giocano, due in panchina, quindi hanno anche dei ricambi importanti. Abbiamo fatto un'ottima prova, era importante non perdere, era importante non prendere gol per continuare la striscia positiva. Siamo contenti, così rimaniamo aggrappati al gruppetto che piano piano si sta formando nelle zone alte della classifica. Mister Cristofari, il Delfino Curi si è confermato avversario ostico e con una difesa difficile da penetrare. Sì, lo sapevamo, insomma, le squadre di Mister Bonati ogni anno sono difficili da affrontare perché sono squadre organizzate, squadre che corrono, che danno l'anima. Quindi sapevamo della difficoltà della partita di oggi, però insomma io mi sento di fare complimenti a questa squadra perché venivamo dalla terza partita in una settimana, otto partite in 28 giorni. Apro una piccola parentesi, per me è follia nel calcio dilettantistico fare tutte queste partite, gente che lavora, gente che viene da un anno di inattività, credo che chi abbia fatto il calendario debba farsi delle domande perché tante squadre hanno parecchi infortunati e quindi questo credo che sia veramente incredibile. C'è da fare una riflessione, però ripeto, la partita di oggi, il pareggio è giusto, diamo continuità dei risultati, quindi faccio complimenti alla mia squadra e ci ricarichiamo per l'ennesima impresa settimanale che dovremo affrontare.